27 novembre 1990. L'Italia firma la Convenzione di Schengen, sottoscritta cinque anni prima da Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania e Francia. L'accordo prevede l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere dei paesi. Per gli italiani, il libero transito di merci e persone nell'Unione Europea si realizza otto anni più tardi, dal 1 aprile 1998.